Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie, il tempo previsto fino al 26 maggio. Ebbene possiamo individuare tre eventi di rilievo, una prima fase piovosa tra questo venerdì e la domenica con piogge venerdì e sabato da prima al nord e poi domenica sulle regioni meridionali. Una seconda fase piovosa tra il 24 e il 26 maggio che interesserà solo le Alpi e le regioni di nord-est. Per quanto riguarda invece le temperature, l'anticiclone nord-africano ci abbandonerà in questo fine settimana, le temperature scenderanno entro domenica su valori quasi normali. Ma poi ecco il terzo evento di rilievo, tra il giorno 22 e il giorno 24 l'anticiclone nord-africano ricomparirà sull'Italia portando una breve ondata di caldo ma con massime che non supereranno i 30 gradi. Bene termino qui, un caro saluto ancora da Maglio Giuliaci dal pulsante sottostante può visualizzare le previsioni di casa tua.